buongiorno ragazzi bentornati all'interno del nostro canale saluto la prima i saluto la prima h e saluto tutto il pubblico che ci è venuto a trovare oggi all'interno del nostro canale continuate a inviarmi tutto il materiale che vi richiedo molto molto bene stiamo continuando ad andare avanti bene stiamo procedendo con il programma abbiamo un ottimo ritmo mi raccomando continuiamo così vi ricordo come sempre che io sto a casa io sto a casa voi state a casa continuiamo a stare a casa è vero stiamo tornando piano piano alla normalità gradualmente però dobbiamo essere molto molto cauti in questo momento e rispettare quelle che sono le direttive sanitarie che ci vengono imposte mi raccomando è fondamentale dobbiamo vincere questa battaglia è una battaglia spesso si vince con dei dettagli e questi dettagli le indicazioni sanitarie che ci vengono imposte sono molto molto importanti continuiamo così direi subito di iniziare la lezione di oggi che come al solito il lunedì è dedicata all'antologia e in particolare alla poesia partiamo il percorso che voglio proporvi oggi è dedicato ai sentimenti e in particolare forse ai sentimenti più intensi e duraturi che esistono ovvero i legami tra i figli e i genitori e i legami tra i genitori e i figli sono rapporti, legami, sentimenti indissolubili che nascono con la nascita dell'individuo e sono tra i più regolari e continui nel corso del tempo certo ci possono essere degli alti e dei bassi però il rapporto tra genitori e figli è quello che dura di più che è più intenso, più continuativo nel tempo quello che voglio proporvi oggi è proprio una lettura poetica di questo rapporto infatti sappiamo che dove ci sono sensazioni, sentimenti, stati d'animo forti e continuativi nel tempo dove c'è tutto questo? Di solito c'è poesia e gli autori che vedremo oggi hanno dedicato sì delle poesie e dei componimenti ai propri figli ma vedremo anche un caso di una poetessa che ha dedicato un componimento alla propria madre per cui un rapporto bionivoco da figli a genitori da genitori a figli direi subito di iniziare questo percorso poetico e andiamo tutti a pagina 445 leggiamo insieme la prima poesia è una poesia del poeta e scrittore triestino Umberto Saba La mia bambina con la palla in mano con gli occhi grandi colore del cielo e dell'estiva vesticciola Babbo! mi disse voglio uscire oggi con te ed io pensavo di tante parvenze che s'ammirano al mondo io ben so a quali posso la mia bambina assomigliare certo alla schiuma alla marina schiuma che sull'onde biancheggia a quella scia che esce azzurra dai tetti e il vento sperde anche alle nubi insensibili nubi che si fanno e disfanno in chiaro cielo e ad altre cose leggere e vaganti il poeta ha una figlia si chiama Linuccia e Linuccia gli appare con i suoi occhi azzurri la veste è leggera e una palla in mano questa immagine impalpabile e leggera di questa bambina questa bambina alla quale il poeta il padre vuole molto bene ispira ispira delle immagini leggere impalpabili sottili soffici la figlia Linuccia assomiglia secondo il poeta alla schiuma delle onde del mare che si crea appunto in mare aperto oppure quelle onde che si schiantano sulle scogliere sugli scogli della sua trieste una schiuma che dura poco e poi nel giro di qualche istante si dissolve nel nulla assomiglia anche a quel fumo leggero che esce dai comignoli della sua trieste e in una città così ventosa viene spazzato via in un attimo dal vento assomiglia anche la sua Linuccia a quelle nubi impalpabili e leggere che nei pomeriggi d'estate in una città come trieste in una città di mare scorrono e corrono nel cielo per ispirare versi sì per sognare ma poi inevitabilmente per dissolversi nel cielo la seconda poesia di oggi non è dedicata a una bambina ma un bambino un bambino che diventerà famoso qualche anno dopo è una poesia di Attilio Bertolucci intitolata per B che trovate a pagina 446 del vostro libro i piccoli areoplani di carta che tu fai volano nel crepuscolo si perdono come farfalle notturne nell'aria che s'oscura non torneranno più così i nostri giorni ma un abisso meno dolce li accoglie di questa valle silente di foglie morte ed acque autunnali dove posano le loro stanche ali i tuoi fragili alianti la poesia ci propone la figura di Bernardo Bernardo è il figlio di Attilio Bertolucci diventerà un famoso regista qui però Bernardo è un bambino è un bambino che costruisce e fa volare degli aerei di carta è un'atmosfera allegra felice nella quale appunto il piccolo Bernardo getta al vento questi aeroplanini che viaggiano per qualche metro e poi atterrano su una superficie di foglie autunnali di foglie umide e il poeta osservando questa scena tenera colloquiale piena dei sentimenti che il padre prova per il figlio è preso a un tratto da una sorta di malinconia quel volo quegli aerei di carta gli fanno pensare al tempo che passa il bambino crescerà e il padre diventerà sempre più anziano ed è quel volo quel volo di aeroplanini che poi atterra sulla superficie umida delle foglie d'autunno è un po' come la vita vola in maniera a tratti incerta ma con una sua linearità fino ad atterrare infine vedete che all'interno della stessa poesia si uniscono un'atmosfera tenera e colloquiale familiare del rapporto intenso tra il padre e il figlio amato a questa sorta di malinconia col pensiero che quel figlio diventerà grande e suo padre diventerà inevitabilmente anziano e quel tappeto di foglie morte ed acque autunnali fa posare gli aerei di carta le stanche ali degli aerei di carta quei fragili alianti dice il poeta nell'ultimo verso che gli hanno ispirato con intensità questo componimento eh sì anche le poesie dedicate ai figli dedicate alla gioia alla freschezza di queste figure possono nascondere dei lati malinconici dei tratti tristi pensate alla poesia di Bertolucci che abbiamo appena visto quel bambino Bernardo crescerà affronterà le sfide della vita smetterà di giocare allegro e spensierato con gli aerei di carta e il genitore suo padre inevitabilmente invecchierà ma quei figli bambini o bambine che siano magari crescendo si appassioneranno alla poesia e diventeranno poeti magari oppure poetesse e proprio di una poetessa volevo parlarvi per chiudere la lezione di oggi abbiamo visto tanti poeti uomini vedremo ora invece una poetessa e un componimento dedicato da Ada Negri poetessa di Lodi alla madre è il percorso inverso che abbiamo visto finora abbiamo visto genitori che dedicano una poesia al figlio o alla figlia qui vediamo invece una figlia che dedica un componimento alla madre andiamo a pagina 429 in basso a destra e leggiamo insieme questa poesia di Ada Negri la mamma non è più giovane e ha già molti capelli grigi ma la sua voce è squillante di ragazzetta e tutto in lei è chiaro ed energico il passo il movimento lo sguardo la parola questo breve componimento è dedicato da Ada Negri alla madre la madre che ha lavorato ha lavorato fino allo sfinimento per dare alla figlia una vita dignitosa e per farla studiare Ada è rimasta senza il padre all'età di appena un anno e la madre ha dovuto lavorare in fabbrica per poter portare i soldi a casa necessari al sostentamento della famiglia e Ada quindi la ricorda in maniera affettuosa in questa poesia come abbiamo visto i genitori appunto nel tempo come ci suggeriva anche Bertolucci nella sua poesia invecchiano però della mamma di Ada sono rimasti alcuni tratti indelebili identici a quando era più giovane lo leggiamo chiaramente tutto in lei è chiaro ed energico il passo il movimento lo sguardo la parola tutto ciò non risente degli anni e dalla medesima energia di quando la madre di Ada era giovane e andava a lavorare in Filanda vi ho ricordato questa poetessa Ada Negri anche perché quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita è una poetessa che secondo me va riscoperta o scoperta letta per chi non lo avesse mai fatto abbiamo letto insieme oggi una poesia di Ada Negri anche perché come vedete dalle date ricorre quest'anno il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice una scrittrice che sicuramente è interessante riscoprire o scoprire per chi non l'avesse mai letta ecco questa ricorrenza i 150 anni dalla nascita sono stati celebrati dall'uscita di un recente volume un volume al quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare pubblicando un mio saggio insieme ai contributi di altri studiosi e studiose di questa scrittrice una poetessa che andrebbe sicuramente riscoperta riletta o scoperta e letta per la prima volta ed è per questo che oggi vi metto qui sotto in descrizione oltre ai compiti per casa anche un link per chi volesse approfondire la biografia e l'opera di questa poetessa fondamentale della nostra tradizione direi immediatamente ora di passare al momento dei saluti delle raccomandazioni finali e come sempre dei compiti per casa andiamo momento dei saluti finali quindi ringrazio tutti voi per l'attenzione e ci diamo appuntamento a mercoledì alla lezione che come sempre sarà dedicata all'epica e in particolare alle vicende di Ulisse nell'Odissea per quanto riguarda le lezioni live le ho già inserite nella piattaforma Moodle per cui le trovate lì con data e orario per quanto riguarda questa settimana i compiti per casa di questa lezione di poesia li troverete qui sotto in descrizione ovviamente nella piattaforma Moodle non mi resta che augurarvi un buonissimo pomeriggio una buona giornata e ci vediamo sempre qui come sempre qui all'interno del nostro canale a presto ciao ragazzi grazie a tutti